La posta è in gioco, perché mi sembra che non abbiamo chiari i contorni. Se si va al voto, poi le commenteremo, c'è in ballo le elezioni politiche, un trampolino che avrebbe la Lega per le elezioni Umbria, Emilia e forse arriveremo la Toscana. C'è in ballo la geografia del potere di questo paese, perché in primavera vanno rinnovati Enel, Eni, Leonardo, Enab e giù di lì. In prospettiva, più in là, se questo Parlamento viene formato da queste elezioni, c'è anche la Presidenza della Repubblica. In altre parole è in ballo il paese, siamo d'accordo su questo.